Per la capacità di tradurre e narrare il nostro momento storico in un affresco inedito, per l'energia e la forza trasmessa nel connettere arte e società, dedicato a tutte le comunità che lo hanno sostenuto, rendendo unico in ruolo del museo, il premio Maxi va a Marinella Sade. Sono molto emozionata perché in realtà significa tanto, ho lavorato tanto, voi avete lavorato tanto ed è un onore che queste persone ce l'abbiano riconosciuto anche come un segnale di apertura, un linguaggio, un ponte e una maniera di vivere le istituzioni, il museo, l'arte contemporanea in una maniera diversa, che il pubblico mi chiede, come abbiamo visto questa mattina. Facci i miei complimenti a Yuri, a Nicole e a Gilda, che sono tre amici e vi do con la loro questa bella pedana rossa. Sono sicura che tutti abbiamo la più grande gioia nel fatto di aver realizzato il nostro lavoro qui e di averlo potuto mostrare una giuglia di persone altamente competenti. Questo mi dà solo più forza per andare avanti. Ringrazio tutti gli amici, ringrazio i sostenitori di Treviso, del Brutto Tra che ci aiutano ad andare con la sculona di Dance, ma ripeto, è un progetto partecipativo, voi ne siete da parte, dovreste stare tutti qua o almeno urlare, cioè è il minimo che urlate, no? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.